E' un elemento che ha permesso alle nostre macchine di esplorifiche e trono di Milano di muoversi. Poi se volete fare una ricerca personale, anche io di meccanica, uno me l'ha spiegato, ma io non ho mangiato, la mia testa è artistica. Allora, questa sala era dedicata in origine alla camera degli ospiti, ora è stata allestita come se fosse uno studio, per esempio in via. Ho già detto prima che siamo in una casa e quindi non ci sono i cartellini da museo.